Abbiamo messo una nuova gamma di bonus cap con scadenze molto molto brevi, alcune appunto a fine anno, quindi una maturità residua di tre mesi e mezzo circa, hanno una scadenza a metà dicembre e quindi possono essere utilizzati anche da chi avesse un'azienda fiscale in scadenza. Facendo un passo indietro e spiegando che cosa sono i bonus cap certificate, diciamo sono dei certificati di investimento che hanno delle barriere di protezione, in particolare una barriera in continua e quindi sono ideali in momenti di mercato laterali, cioè tutte quelle situazioni in cui il mercato non ha un forte trend rialzista o ribassista. Infatti prevedono delle barriere di protezione, ma attualmente in caso di crash di mercato queste barriere vengono rotte. Cosa succede? Che se il mercato, e qua vediamo i vari scenari, se il mercato si mantiene all'interno di un certo andamento, l'investitore ha un rendimento positivo, sicuramente più positivo ad esempio rispetto alla detenzione di un ETF, facendo ad esempio sul Fuzzimib, nel caso in cui il Fuzzimib, l'indice italiano, poniamo da qua a fine anno magari abbia una serie di movimenti, ma diciamo si mantenga a fine anno sui livelli attuali. La gamma prevede una serie di sottostanti, sia con indici, sia con azioni, diciamo che per gli investitori magari più prudenti, che vogliano appunto mantenersi su un indice azionario, ad esempio ancora di interessanti, potrebbero esserci quello sul Fuzzimib, che ha una barriera comunque abbastanza profonda, posizionata a 16.578 punti, e che quindi diciamo ha un rendimento del 5,11% da qua a fine anno. Lo andrei anche a fare vedere sul sito, perché questo prodotto si trova appunto nella sezione del nostro sito investimenti BNP Paribas, Certificate Investimento Bonus Cap, semplicemente cercandolo con il codice ISI, lo trovo in questa maniera, vedete oggi quota un pochino sotto la pari, si compra a 98,50 e si può vedere chiaramente come, comunque come a distanza della barriera posta al 15,5%, paga un rendimento bonus addirittura in questo momento del 6,60%, i prezzi della presentazione sono riferiti a stamattina, e quindi se andassimo ad annualizzare questo rendimento, in realtà si attreve più di un rendimento del 23%. Ecco, ovviamente se facciamo questo esercizio anche per bonus cap con sottostanti azionari, i rendimenti aumentano, questo è normale, in quanto tutti i certificati, i bonus cap in particolari, girano bene, si dice, quando i sottostanti sono volatili, e questo naturalmente è il caso di alcune di queste azioni, come ad esempio Air France KLM, naturalmente in questo momento l'attenzione sul mercato dei trasporti, degli aerei, è particolarmente alta, c'è molta incertezza su quello che accadrà, e quindi appunto non credo che stupisca nessuno vedere come il bonus cap sulla France KLM paga un rendimento addirittura del 16%, con una distanza del 32%, pur essendo la vita di questo bonus cap appena tre mesi e mezzo. Volendo invece considerare dei sottostanti più tranquilli, ecco, meno volati, di quali ad esempio Enel, vediamo che comunque con una distanza sicuramente più contenuta, un 13%, abbiamo comunque un rendimento del 7% a fine anno, oppure Intesa San Paolo o Unicredit. Come utilizzare i bonus cap all'interno di un portafoglio? Allora, molti li utilizzano anche, non solo appunto per il tema del recupero delle minusvalenze, ricordiamo magari a chi non lo sapesse che chi ha un ottenimento fiscale in scadenza a fine anno, ad esempio legato a perdite su azioni, può compensarlo con eventuali plusvalenze derivanti dai certificati, anche i bonus cap, ma come utilizzare il tema delle minusvalenze? Spesso vengono utilizzati come sostituzione azionaria, cioè facciamo un esempio, io ho in portafoglio, non so, il titolo Unicredit, sono positivo, penso che comunque il titolo possa ancora crescere, però temo le incertezze di questo periodo, a questo punto magari una parte della posizione nazionale di Unicredit la vendo e contestualmente acquisto questo bonus cap su Unicredit con una barriera al 6,27,48, e quindi mi metto un'assicurazione, mi metto un cuscinetto di protezione garantendomi da una possibile decrescita del titolo del 26%. Ecco, un esempio in questo senso, qui l'abbiamo fatto con appunto Intesa San Paolo. Un'alternativa a chi, diciamo, per chi non avesse il tema del recupero delle minusvalenze a fine anno e quindi potesse, diciamo, traghettare un orizzonte temporale leggermente più ampio, potrebbero essere i bonus cap che hanno una durata di 10 mesi invece che di 3 mesi e mezzo. Perché? Perché su questo orizzonte temporale la gamma riesce a garantire delle barriere particolarmente profonde, quindi chi volesse assicurarsi le barriere molto, molto profonde, potrebbe ad esempio dar un'occhiata ai bonus cap con scadenza giugno 2021. Questo è un esempio che riporta appunto la profondità della barriera sul bonus cap sul Fuzzi, con una barriera posta a 14.504 punti, ma la gamma è piuttosto ampia e quindi, ad esempio, se non erro, il bonus cap su unicredit, non so se riesci anche tu a confermarlo in tempo reale, Alessandro, il bonus cap su unicredit con una barriera posta a 5.3784, e appunto un livello barriera che almeno a mia memoria non è mai stata toccata negli ultimi 5 anni. Confermo. E quindi, diciamo, è stata proprio una gamma pensata per proporre delle barriere particolarmente profonde con comunque un timing contenuto, perché appunto parliamo di 10 mesi di vita residua.